Tacco galeone dei pirati, la diagnostica diventa quasi una giostra, magie del Meyer, magie di un'eccellenza toscana in Europa. E allora ecco i macchinari come forzieri, castelli e mare a perdita d'occhio. Ma l'estetica è solo una parte di questo gioiello di tecnologia che è frutto di un investimento di 1.200.000 euro da parte della struttura commissariale. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, infatti il generale Figliuolo, è voluto tornare in visita al Meyer per questa occasione, accompagnato dal direttore dell'ospedalino Alberto Zanobini e dal presidente della regione Eugenio Gianni. La macchina che funziona già a pieno ritmo, ha la capacità di fornire immagini ad alta risoluzione in tempi ridotti e con una bassissima esposizione alle radiazioni. Può scansionare un intero organo in meno di un secondo, visualizzare il cuore in un battito cardiaco e tutto il corpo in pochi secondi. Questo permette di effettuare esami ai pazienti pediatrici, neonati e bambini, riducendo il ricorso alla sedazione. Venire qui e vedere realizzata questa infrastruttura, quindi la posi in opera e l'utilizzo già da qualche giorno di un'attacca di ultimissima generazione pediatrica che non ha eguali in Europa per la sua modernità. Quindi qualità e precisione delle immagini, rapidità di esecuzione, quindi tempi minori. Mi hanno fatto vedere che in meno di mezzo secondo riesce a far vedere al primario di radiografia, ai suoi tecnici, a chi li deve vedere, l'addome per esempio di un bambino. Qualcosa di importante, è un'attacca di nuova generazione, una serie di infrastrutture diagnostiche e digitali che ci portano all'avanguardia. E quindi noi lo ringraziamo, ringraziamo di cuore perché è la dimostrazione della sua concretezza. Per tutti noi, quando vediamo le cose fatte rispetto agli impegni che avevamo a tutta la popolazione proposto, è il momento più bello e più alto. La visita al Meier è stata anche un'occasione per fare il punto sulla prosecuzione della campagna vaccinale, che in Toscana, come sappiamo, ha ormai consolidato ottimi risultati. Il commissario Figliuolo ha annunciato che è allo studio la quarta dose per i fragili dal primo marzo. Stiamo individuando la platea e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione in atto.